Con questo sbalzo improvviso di temperatura, di nuovo con raffreddamento, con le piogge che si sono di nuovo presentate, noi andiamo incontro a un vantaggio che può essere quello della riduzione dello smog, ma uno svantaggio perché la gente ha iniziato a scoprirsi, perché ha fatto molto caldo, c'erano delle temperature primaverili, se no addirittura quasi estive, e adesso la temperatura è di nuovo tornata a dei livelli autunnali o invernali. Per cui c'è il rischio di un peggioramento dei disturbi nasosinusali, delle otiti catarrali, dei disturbi orofaringei con tonsilliti e anche di laringiti o tracheiti. Quindi oltre a coprirsi molto bene è importante evitare gli sbalzi eccessivi di temperatura o di scoprirsi troppo in fretta e quindi poi inoltre se iniziamo ad avere dei disturbi che sono quelli di ostruzione nasale, di raffreddore o di mal di gola, iniziare non subito con l'antibiotico, perché spesso queste forme di perfrigerazioni sono legate a disturbi virali, quindi i virus non si combattono con le terapie antibiotiche, ma si combattono con degli antinfiammatori, degli antipiretici che abbassano eventualmente la febbre e quindi iniziare per un giorno o due con la tachipirina, quindi il paracetamolo, l'aspirina se uno non è allergico all'aspirina, altri antinfiammatori, antidolorifici se subentrano anche dei dolori alla gola, dei dolori all'orecchio. Se poi la situazione non migliora nel giro di due o tre giorni è meglio consultare il medico per valutare se c'è qualche processo infettivo tale per cui sia poi necessario abbinare a questa terapia anche una terapia antibiotica. A livello nasale non fare aerosol in fase acuta, quando c'è un raffreddore acuto, quando il naso inizia a colare, perché l'aerosol può determinare delle complicanze fino ad arrivare a dei sanguinamenti nasali, l'aerosol si fa nelle fasi intervallate, nelle fasi intervallate tra un fattore infiammatorio e un altro, quindi si fa nelle forme croniche, nelle sinusiti croniche, nelle riniti croniche, mai in una fase acuta e quindi piuttosto effettuare soltanto dei lavaggi nasali per idratare bene il naso, lavaggi con dell'acqua marina, con dell'acqua isotonica, con della soluzione fisiologica, oppure con dei prodotti che sono usciti da pochi anni, che vanno molto bene, che sono a base di acqua marina e acido ialuronico, l'acido ialuronico è una sostanza che noi abbiamo nell'organismo, veniva utilizzata tantissimo e viene utilizzata tuttora dagli ortopedici per anche le infiltrazioni articolari e dai chirurghi plastici, ma da un annetto anche più si usa anche da noi otorini per la loro potente azione antinfiammatoria sia a livello nasale che a livello orale, quindi nelle faringiti, nelle tonsilliti. Ripeto, consultare però il medico se nel giro di 2-3 giorni soltanto con le terapie antinfiammatorie il problema non si risolve o non migliora ed è stazionario sul peggiorativo.